Modesta circolazione ciclonica sul Golfo Ligure in fase di rapido colmamento tra domenica e lunedì transito di un fronte freddo collegato ad un nucleo di aria fredda proveniente dai Balcani. A seguire pressione indecisa aumento grazie all'espansione verso sud dell'anticiclone attualmente presente sull'Europa centrale. Lunedì 27 marzo in Toscana cielo in prevalenza sereno, venti moderati, mari da mossi a poco mossi sotto costa, mossi a largo, temperature massime in ulteriore lieve calo nelle zone interne in Appennino in contenuto aumento sulle aree occidentali. Le minime della giornata verranno probabilmente raggiunte in tarda serata. Cielo sereno poco nuvoloso su tutta la provincia di Lucca. Nella piana temperatura minima prevista 4, massima 17 gradi. A Castelnuovo e zone montane minima 2, massima 15. A Viareggio in Versiglia minima 9, massima 17 gradi.